Sponsored by Lineeleco, da sempre in moto verso il futuro, lineeleco.it Impresa Valassi, fermo e franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassiff.it Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it Filippo Boscagli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, visita allo stadio doppia veste, se non tripla, da rappresentante della politica locale, da tifoso e anche per dare un po' un occhio all'avanzamento dei lavori. L'avanzamento è confortante, il nostro stadio rimane uno stadio meraviglioso, sia prima dei lavori e lo sarà ancora di più dopo i lavori. Il contesto, chiamiamo tantissimo, tra lago e montagna ed a rega Monticeppi, sta venendo ancora più valorizzato sia dalla vittoria di questi play-off, sia dai lavori che si stanno facendo. Vedendo lo stato di avanzamento, confidando che arrivino tutti i materiali, si confida davvero di vedere da subito, da inizio settembre, anzi probabilmente addirittura a fine agosto, la fine dei lavori necessari e veder giocare i ragazzi in campionato direttamente nello stadio di casa. Ecco, è un periodo, questo, in cui il Comune si è affiancato fisicamente all'Eco, non è che l'abbia fatto solo con, ad esempio, proclami istituzionali. L'avete fatto, appunto, concretamente con l'affiancamento e come è stato anche, insomma, riportato nelle motivazioni che abbiamo letto ieri. E, da quanto mi risulta, in questi giorni dovrebbe esserci qualche incontro con la proprietà. Guarda, in questi anni il discorso l'Eco è sempre stato un po' marginale, eravamo in pochi a crederci davvero, ma la cavalcata di quest'anno ha convinto anche chi era più scettico, forse, nel sostenere la squadra e la società in questa grande opera. Ti dirò, il 18 giugno abbiamo avuto questo capolavoro che è la vittoria, poi finale contro il Foggia. Il 19 giugno c'è stata una riunione con il sindaco, giunta e tutti i capogruppo di maggioranza e minoranza, in cui il comune di Lecco, unitamente, senza veramente nessuno che si è tirato indietro, ha deciso che non si poteva più evitare di sostenere la calcio Lecco, perché è un patrimonio dell'intera città. A quel punto, con tutte le vicissitudini che abbiamo vissuto, anche estremamente drammatiche, si è arrivati addirittura a intervenire al Tarra, perché se vedete sia nel ricorso che nella sentenza, il comune di Lecco interviene in aiuto della società Calcio Lecco insieme alle altre 18 società di serie B. E questo è scritto a caratteri cubitali anche nella sentenza, è una cosa di cui andiamo orgogliosi. Noi sappiamo che oggi la proprietà, questa mattina, anzi in questo momento, il presidente di Nunno, con il direttore generale, sta incontrando i vertici del comune per parlare dell'anno che sta arrivando. Ecco, tra l'altro voi siete anche tramite con la regione, che chiaramente ha un orientamento politico rispetto al comune, ma comunque in questo momento si lavora insieme per dare una mano a una squadra che comunque sia inserita in un panorama, che è quella della serie B, che non è esattamente comunque comune a livello regionale, per quanto la Lombardiadi è un numero sicuramente molto elevato di squadra serie A e serie B. Assolutamente, la Calcio Lecco è un patrimonio per tutti, è infatti come se fosse un po' un esperimento di buona riuscita anche della politica locale e regionale il tentativo di sostenere questo piccolo gioiello, per cui è importante che anche i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio sostengano, in tanti l'hanno già fatto, in tanti lo faranno, ci sono in fase di organizzazione tanti incontri con la società proprio per questo motivo, cioè ricreare un sistema Lecco in cui tutti gli esponenti istituzionali, economici del territorio sostengano quello che è un patrimonio assoluto e l'abbiamo visto il 18 giugno quando in piazza, nelle varie piazze di Lecco, la città è completamente esplosa.